Allora, non va la sanità, la giustizia e qual è quella che mi sta tanto sullo stomaco? La sanità, la giustizia, il lavoro, le pensioni, quelle guarda che poco si campa, se c'è la serenità dentro e la condivisione che tu che sei poveraccio come me, oppure io se c'è un po' più di te, basta che c'è la condivisione e la comprensione per l'altro, questo manca porco, non mi fa bestemmiare. Da parte appunto dei politici locali c'è questa comprensione nei confronti dei cittadini? Ma perché nei cittadini c'è? E qui noi andiamo a votare, dipende sempre da noi, io me la prendo con loro perché ci hanno veramente, che qui in quest'Italia non è venuto un cataclisma che siamo arrivati a queste condizioni, è venuto perché ci sono troppo egoismo, individualismo, solo io, solo io, sono tutti i padri eterni. E allora per questo stiano male, questo ci ha rovinato, l'essere umano, egoista, però quello ci è andato perché si sono accontentate dal piatto delle antiche, come dice il Vecchio Testamento, ritorna sempre. Allora finché non ci riprendiamo noi, la dignità dell'essere umano non cambia niente. Adesso questo lo trovo un pochino in grillo, che ci dà questa forza anche nelle piccole cose, non sono proprio le piccole cose che poi entrano avanti.